E caccia aperta agli aggressori di Marouane Benamere, il tunesino di 30 anni ha coltellato sabato sera poco dopo le 20 in un parco di Vigonza tra via Aldomorio e via Bascelea a Padova. L'uomo raggiunto da due fendenti alle gambe era morto praticamente dissanguato. Aveva cercato di scappare trascinandosi lungo i vialetti del giardino fino a che alcune persone non hanno chiamato polizia e 118. L'uomo era stato anche portato all'ospedale ma è morto poco dopo. Sono due le persone sospettate dell'omicidio. Le telecamere di sorveglianza del parco li avrebbero ripresi mentre scappavano a piedi dopo l'aggressione. E forse sono già in fuga verso i loro paesi di origine, forse verso la stessa Tunisia che versa in una crisi che rende difficili anche i controlli da parte delle forze dell'ordine locali. Marouane Benamere, 30 anni, non aveva fissa dimora e era irregolare con qualche precedente legato proprio ai permessi di soggiorno. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito il gruppetto litigare e alzare il tono di voce cercando qualcosa a terra con la torcia del cellulare e subito dopo le urla della povera vittima colpita a morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Padova e dalla locale stazione. Le piste sono indirizzate ad un regolamento di conti ma nulla è scontato. All'origine del diverbio potrebbe esserci qualsiasi cosa, anche un semplice litigio.